La carta dei servizi, come si attiva? La tessera sanitaria, carta provinciale dei servizi, è tessera sanitaria, tessera europea di assicurazione malattia e codice fiscale. Tre funzioni in una sola tessera, da casa, dall'ufficio, da scuola. Ovunque tu sia, con la carta dei servizi, basta un computer e una connessione internet per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione della provincia di Bolzano. La porta d'ingresso ai servizi online della pubblica amministrazione è il portale della nuova rete civica all'indirizzo www.provincia.bz.it La nuova tessera sanitaria, carta provinciale dei servizi, viene ricevuta tramite posta ordinaria all'indirizzo di residenza. Per utilizzarla è necessario prima attivarla. Per attivare la tessera sanitaria, carta provinciale dei servizi, è necessario recarsi presso lo sportello comunale con la nuova tessera e con un documento di identità valido. Ti verrà consegnato gratuitamente un lettore digitale, uno per nucleo familiare, che ti servirà per accedere con la carta ai servizi online. Nell'arco di alcune settimane dall'attivazione, riceverai a casa una lettera contenente i codici personali che ti garantiscono un accesso protetto e riservato ai servizi online della pubblica amministrazione. Sul sito della carta dei servizi, all'indirizzo www.provincia.bz.it slash cartaservizi, sono disponibili i software di installazione del lettore e della carta, i manuali e i video tutorial che ti guideranno nella corretta e semplice procedura di utilizzo. A questo punto, utilizzando la carta con il codice personale PIN, puoi accedere sin da subito ad alcuni servizi online della pubblica amministrazione. I servizi accessibili per via telematica dal sito della rete civica sono in progressiva attivazione nei prossimi mesi. Per qualunque informazione puoi chiamare il numero verde 800 816 836 da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 oppure scrivere all'indirizzo mail servicedesk.provincia.bz.it Iscriviti alle news del sito. Riceverai periodicamente tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui servizi associati alla tua carta. Perché la pubblica amministrazione è ancora più vicina a te?